Oggi, questa giornata è importante nella festa della liberazione d'Italia, il bambanzo fascismo, 25 aprile. Oggi abbiamo la possibilità di ritornare le piazze, abbiamo già fatto negli anni passati, oggi ancora di più grazie, la partecipazione dell'evoluzione, l'unico, riquicendone il tessuto, attraverso la pratica dell'ascolto, costante e rispettoso. Nel tempo dell'evoluzione non è più l'ora delle decisioni irrevocabili, occorre riconoscere di avere imboccato, scritto con il sangue dei tanti, troppi martiri del fascismo e del nazismo, che nessuno potrà o dovrà mai provare a dimenticare. Questo per me in una data così significativa è facile cadere nella trappola della memoria vuota e della memoria scontata, entrambi incapaci di stimolare una riflessione critica e costruttiva, proiettata verso il futuro, sulle ragioni che ci hanno portato ad essere qui oggi. Grazie. 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 Grazie.